Nel più classico dei testa-coda, gara senza storia al Barbati di Pescina tra Nero Stellati e Materica. Troppo motivata la capolista marchigiana nel voler riprendere la marcia da primato dopo la sconfitta nello sconto diretto con la Vispesaro. Lo 0-3 finale non ammette repliche, anche perché la squadra di Ricorcia si è presentata all'appuntamento con il centrocampo a pezzi e si è opposta, come ha potuto, fino a metà del primo tempo, prima di finire al tappeto per la prima volta. Mancano infatti Pacella, Vitone e Giallonardo nel Matelica fuoricausa di Gregorio e in extremis Gabbianelli. Poco male per mister Tiozzo, perché chi gioca al posto dell'ex Prato, Tonelli si fa subito notare dopo sei minuti. Un minuto dopo ci prova allo sicco, ma parente, non si fa sorprendere e si rifugia in calcio d'angolo. Il Matelica fa capire subito le sue intenzioni, Tonelli si rende ancora pericoloso al quindicesimo. Dopo tre minuti è clamorosa la traversa colpita da Angelilli. La pressione della capolista sfocia con il gol del vantaggio al ventesimo. La firma è quella di Matteo Malagò, è preciso il rasoterra dell'ex centrocampista di Real Vicenza e Venezia. Nulla da fare per parente. Nero Stellati sempre in balia della prima della classe, per cui il gol dello 0-2 è solo rimandato. Al minuto 41 il cross dalla destra è di Tonelli per il colpo di testa di D'Apologna, che senza problemi gonfia la rete. E con questo parziale si va all'intervallo. Ripresa al piccolo trotto con la squadra di Ricorcia, che cerca di limitare i danni, mentre quella di Tiozzo controlla senza problemi. Chi è motivato nel cercare il gol con insistenza è il bomber Magrassi, che al diciottesimo sfugge a Puglielli, ma sbaglia da favorevole posizione. Il gol Magrassi lo trova però al ventisettesimo. Erroraccio di Puglielli e stavolta il centravanti matericese non perdona. 0-3. Per Puglielli si conferma un pomeriggio particolarmente difficile e dopo un altro giro di lancette viene espulso per un fallo ai danni del solito Magrassi. Peccato per colui che rappresenta una delle poche note liete della stagione dei Pratolani, che chiudono in dieci uomini. Nel finale il Matelica sfiora in un paio di circostanze il poker, ma Palo e Traversa lo negano rispettivamente a Malagò e da Polonia. Il Matelica tiene così a distanza la Vispesaro per i Nerostellati un pomeriggio che avvicina il verdetto della retrocessione. Non è questa la partita dove cercare di fare punti, è la partita però dove devi dimostrare che c'è voglia e sei vivo. Da bocciare in queste partite c'è poco da bocciare, anche perché trovi di fronte una squadra che ti mette in difficoltà, non ti fa giocare. Lui sono molto forti e non voglio bocciare niente, anche perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Continuiamo su questa strada, adesso andiamo ad affrontare squadre che non sono l'Aquila, non sono Matelica, non è Avezzano, Campobasto, sono queste le squadre che abbiamo affrontato fino ad adesso. Andiamo ad ascondarci con squadre forti e dobbiamo sperare fino alla fine, lotta fino alla fine, fino a quando la classifica non ci dice che è finita. Abbiamo giocato un buon calcio, piacevole e soprattutto molto intenso. E' quello che ho predicato in settimana, perché fondamentalmente poi si gioca bene a calcio, però bisogna portare a casa i punti. E oggi noi abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare per riscattarci della partita di domenica e per ripartire per queste ultime dieci bellissime domeniche che spero saranno belle per noi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.